L'idea che abbiamo utilizzato per il Rione dei Cappuccini, per Rione Senza Frontiere, viene da un po' di conversazioni che abbiamo fatto insieme. Ad un certo punto ci sembrava che per mettere insieme e collaborare tutti quanti proprio alla costruzione di una identità anche del quartiere ci volesse una storia o comunque un racconto che parlasse del nostro Piemonte, che parlasse di qualcosa di antico e quindi abbiamo lavorato molto su questo. Per cui per Rioni Senza Frontiere i Cappuccini hanno in serbo una piccola sorpresa in giro per le strade del Rione. Ci vediamo sabato 16 giugno e domenica 17 giugno con qualcosa di antico e qualcosa di moderno. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!